Nel corso di venerdì la nostra penisola verrà lambita da un'uova irruzione fredda dai Balcani che tuttavia risulterà ben meno intensa rispetto a quella che ci ha interessato i giorni scorsi. Sarà comunque in grado di dar luogo a qualche veloce rovescio lungo il medio-basso versante adriatico, nevoso anche a quote piuttosto basse ma in rapido esaurimento entro fine giornata. Bel tempo prevalente invece sul resto della penisola grazie anche alla progressiva espansione dell'alta pressione da ovest. Alta pressione che ci regalerà un weekend sostanzialmente stabile su buona parte dell'Italia. Salva ancora qualche note instabile sulle estreme regioni meridionali e in particolare su Puglia e bassa Sicilia ancora esposte ad un residuo flusso di correnti fredde dai Balcani tuttavia in progressivo esaurimento. Le temperature infatti saranno in aumento a partire da ovest, inizialmente più sensibile sulle aree montuose ma nella prossima settimana un po' a tutti i livelli con valori termici oltre le medie del periodo. Insomma l'inverno tornerà ad assopirsi ma per tutti gli ulteriori dettagli vi rimando come di consueto al sito trebimeteo.com